Bentornati bentornati qua nella nostra galassia parte 2 del video della patch note iniziamo subito perché è bella lunga si parla qua degli strali e di tutti i buff e i cambiamenti che sono stati fatti ai nostri 4 strali preferiti iniziamo con il colosso allora componenti del colosso quindi la schermatura ablativa è stata buffata del 40% prima era del 20% questa volta del 40% per 10 secondi quando l'attivate e non più il 20x5 la grande entrance quindi quando vi lanciate sui nemici tirando il pugno per terra è stata migliorata la capacità di innescarsi quando colpite gli attacchi in mischia o attacchi violenti lo scafo rinforzato è stato aumentato il buff del 33% prima era il 20% ed è stato rimosso il cooldown il trattamento d'urto invece era colpire i nemici con l'abilità di Ordance Lancer riduce temporaneamente l'accumulo di calore del propulsore del 30% per 5 secondi invece adesso l'infliggere danni aumenta tutti i danni dell'8% per 10 secondi implementato quindi puoi raggiungere ad un massimo di 10 quindi 8 per 10 puoi arrivare fino all'80% che non è niente male il distintivo di stalwart stalwart non so come si dica beh comunque il distintivo prima era la rottura dello scudo aumenta tutti i danni di abilità del 40% per 5 secondi invece adesso quando colpisci con un effetto di stato aumenta tutti i danni del 40% per 10 secondi che mica male frame sincronizzato modificato per colpire un nemico è stato modificato per colpire un nemico che non ho ben capito che cosa voglia dire questa cosa lo saprete voi colossi ok mentre qua ingranaggi del colosso quindi tutto quello che riguarda le varie abilità allora c'è il pugno del crogiolo prima era victor's advantage aveva victor's advantage cioè sconfigge un nemico aumenta il danno del lancia fiamme del 30% per 10 secondi con un per 5 quindi con un massimo di per 5 adesso c'è si chiama vantaggio dello striker colpire un nemico aumenta i danni del lancia fiamme del 12% per 10 secondi ma è moltiplicabile per 10 quindi prima potevate arrivare a 3 6 9 12 18 al 180% per 5 secondi quindi moltiplicandolo per 5 per 10 secondi ora invece potete arrivare fino al 2 4 6 8 10 12 14 16 8 20 reporto 2 al 140% per 10 per al 140% è stato diciamo leggermente ridotto leggermente ridotto peccato però dai diciamo che è stato cambiato in qualche modo miglior difesa è aumentato il danno base del 25% polvere nera è aumentato il danno base del 25% ed è stato ridotto a un secondo prima invece il cooldown è stato ridotto a un secondo prima invece era 4 secondi il solvent green è aumentato il danno base del 40% la grandine di titano prima il mortaio burst potenziato i proiettili speciali esplosi in un'ampia area potevano innescare le combo esplosive ora il potenziamento del mortaio bust i proiettili speciali esplodono in un'ampia area e crea un effetto esplosione fisica quindi l'esplosione è un effetto fisico che colpisce il nemico è stato proprio modificato prima innescava le combo ora invece fa un effetto suo questi sono tutti i cambiamenti dati al colosso ora passiamo all'intercettore intercettore che è forse l'ostrale più debole più complicato da giocare infatti se ne vedono ben pochi a livelli attuali a cui sono cioè livello leggendare grand master 3 perché moriamo come dei cani brutta cosa brutta cosa comunque siamo stati baffati a schifo anche noi l'algoritmo di sopravvivenza quindi parliamo dei componenti dell'intercettore l'algoritmo di sopravvivenza è stato baffato del 40% per 10 secondi prima era del 20 il talismano del potere è stato baffato al 60 per cento per 10 secondi prima era il 50 per cento e per 5 secondi tra le altre è stato proprio raddoppiati anche secondi reticolo conduttivo prima si diceva che eseguendo una piccola hit streak in mischia quindi una mischia di tre faceva esplodere un'esplosione elettrica ora invece i compi in mischia fanno detonare un'esplosione elettrica che può verificarsi una volta ogni due secondi diciamo che è un buff di non poco conto per il semplice motivo che non dobbiamo più utilizzare tre colpi in mischia per far attivare l'esplosione elettrica ma basta continuare a colpire che ogni due secondi parte un'esplosione elettrica attorno a noi o comunque sul nemico matrix vengeance tutti i danni prima cioè attuale tutti i danni sono aumentati nel 25 per cento per 5 secondi quando la salute dell'ostrale diminuisce ora invece con l'armatura bassa il danno viene ridotto del 50 per cento vuol dire che non aumentiamo più i danni ma prendiamo molti meno danni da prima il che rende tutto molto più bello modo di recupero è stato aumentato il modulo di recupero è stato aumentato del 40 per cento per 10 secondi prima del 40 per cento per 5 secondi la via dello swift è stata aumentata al 60 per cento per 10 secondi prima del 50 per 5 la via qui la traduciamo grassetto in realtà non mi viene mai in mente come si chiama in italiano perché dicono in inglese e vabbè comunque è stata aumentata del 40 per cento dall'armatura ripristinata quindi prima era del 20 per cento mentre il modulo di integrazione è stato aumentato del 30 per cento per 10 secondi prima del 30 per cento per 5 secondi per quanto riguarda invece gli ingranaggi quindi tutto quello che riguarda le abilità allora il carif talon quindi il calcio è stato aumentato del 200 per cento ed è stato rimosso il tempo di recupero ha aumentato fino al 50 per cento dell'armatura ripristinata la carica di raneri è stato aumentato il danno base del 25 per cento ed è stato rimosso il tempo di recupero velo del serpente che sarebbe la granata quella acida è stato aumentato il danno di base del 25 per cento è rimosso il tempo di recupero in più ma scusatemi il velo del serpente è stato aumentato del 35 per cento la base e in più innesca si innesca quando ci sono le uccisioni in mischia quindi si possono fare le combo sopra ma questo si poteva già prima lo shadow claw prima era il vrai strike si ricarica istantaneamente con una piccola serie di uccisioni quindi dovevi fare due uccisioni per ricaricare il vrai strike ora invece lancia due proiezioni vrai che cercano i nemici quindi è stato proprio modificato proprio l'abilità zero assoluto è stato rimosso il requisito che bisognava essere al di sopra del bersaglio per proccare il danno da esplosione quindi è stato proprio modificato adesso procca il danno anche se non siamo sopra l'avversario queste erano tutte le modifiche che riguardavano l'intercettore sono modifiche decisamente molto forti perché è stato veramente buffato e serviva questo buff vediamo un po se questi buff serviranno per mantenerci un pochino più in vita speriamo che subire il 50 per cento di danni in meno quando abbiamo l'armatura bassa ci renda la vita un pochino più facile ora però passiamo al guardian e andiamo a vedere che cosa hanno cambiato anche a lui ok il guardiano stato buffato diciamo per quanto riguarda il volo in pratica il vantaggio tattico che è un nostro dei componenti uno dei componenti del ranger aumenta la soglia di calore prima cioè attualmente era la soglia di calore poteva essere aumentata fino al 35 per cento adesso è stata aumentata fino al 50 per cento che è tantissimo in pratica si può rimanere in volo veramente un sacco di tempo il badge of devastation quindi il componente badge della station prima era aumenta il lanciatore d'assalto che è il nostro lanciatore bellissimo d'assalto del 15 per cento eseguendo una grande serie di colpi quindi 10 si aggiungerà immediatamente l'1 per cento di carica dell'ultimate quindi quando tu andavi a colpire aggiungevano un per cento di carica dell'ultimate attualmente invece è stato aumentato del 30 per cento quindi fa un doppio del danno e in più al posto di aggiungere l'1 per cento alla carica dell'ultimate ne aggiunge il 3 quindi niente male questo niente male victor's resolve in pratica attualmente il danno da esplosione era del 50 per cento e riducevamo il danno da impatto del 20 per cento in più quando si eseguiva una multi kill di 3 ripristinava istantaneamente il 25 per cento di armatura ora era molto difficile fare una multi kill da 3 in realtà non così tanto ma abbastanza ok soprattutto con il guardian ora invece attualmente il danno è stato aumentato da esplosione sempre del 50 per cento la riduzione del danno da impatto è sempre 20 per cento ma bisogna fare un colpo multiplo su due persone quindi bisogna colpire due persone e ripristiniamo istantaneamente il 25 per cento di armatura diciamo che con questa modifica con questo tipo di componente si riesce a rimanere in vita molto 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 più facilmente perché è veramente basta avere basta colpire fare un colpo multiplo su due nemici per poter ripristinare un bel po di armatura secondo vento invece che in questo caso era il baluardo difensivo attualmente aumentava il danno del 25 per cento di tutte le armi e in condizioni di bassa salute aumentava il danno della pistola del 25 per cento attualmente invece con la nuova pace aumenta il danno delle armi sempre del 25 per cento ma in condizioni di salute bassa aumenta i danni delle pistole del 60 per cento sempre per 10 secondi per quanto riguarda l'ops elementale il danno da fuoco e la capacità termica era del 20 per cento e la resistenza del fuoco del 20 per cento questo è sempre un componente sia ben chiaro e aumentava gli effetti elementali applicati ai nemici del 20 per cento attualmente invece con la nuova pace aumenta il danno da fuoco e la capacità massima del 50 per cento quindi più del doppio idem come sopra la resistenza fuoco del 50 per cento e in più quando si vanno a fare cinque colpi consecutivi si applica l'acido al bersaglio quindi si va ad applicare sia il fuoco che l'acido al bersaglio se si utilizzano magari che ne so io l'arma di ranieri che applica fuoco al bersaglio automaticamente oltre a quello si applicherà anche l'acido quindi niente male questo componente è stato modificato e devo dire prima era totalmente inutilizzabile ora invece devo dire che tanta roba funziona molto bene per quanto riguarda invece le granate la wasd aumenta la wasd scusatemi aumenta il danno della granata del 5 per cento quindi sconfiggere un nemico con una carica d'assalto aumenta il danno della granata del 60 per cento quindi con il corpo a corpo niente male questo è utilissimo soprattutto se come me si usano tantissimo le granate e quindi granata corpo a corpo si uccide altra granata fai più del doppio del danno attualmente il danno della granata è del 30 per cento mentre colpire con una bomba d'assalto aumentava il potere della granata del 60 per cento e quindi è stato buffato anche questo non so se si è capito più di tanto ma in pratica è stato buffato dal 5 al 30 per cento e dal 60 invece è rimasta 60 ma è stato raddoppiato il tempo di utilizzo ragazzi è tantissimo tradurre tutta sta roba è complicato andiamo avanti per quanto riguarda il vantaggio aereo trasportato avvio trasportato attualmente aumentava il danno dell'impatto del 35 per cento e danni da esplosione del 35 per cento attualmente invece è stato aumentato tutto al 50 per cento come danni da impatto l'esplosione invece è stato diminuito al 20 per cento ma per quanto riguarda invece le resistenze dal 10 siamo passati al 25 per cento per punta della lancia invece avevamo il danno combinato del 50 per cento e l'esecuzione di una combo riprise nel 40 per cento di armature degli alleati vicini che è molto comodo per se si vuole utilizzare un po il guardiano come support attualmente invece con la pace attuale il danno combinato nel 60 per cento e ripristina il 40 per cento sempre degli alleati vicini del loro scudo quindi comunque questo è rimasto uguale anche perché il 40 per cento di armature ripristinate da un guardiano non è niente male soprattutto si sia un colosso magari per quanto riguarda invece l'assault lancer quindi la ricarica dell'assault lancer era del 35 per cento sconfiggendo nemico in mischia aumentava il danno della granata del 10 del 50 per cento mentre attualmente la ricarica della granata è aumentata al 40 per cento quindi è stata aumentata di un 5 per cento e colpire un nemico invece è stato diminuito fa aumentare il danno da mischia cioè o meglio colpire un nemico con un danno da mischia fa aumentare il danno della granata al 45 per cento ragazzi quante ne hanno ancora ce ne sono veramente un sacco distintivo d'avanguardia distintivo d'avanguardia per quanto riguarda il distintivo d'avanguardia era che il danno da mischia era aumentato del 30 per cento e gli effetti elettrici del 30 per cento anche loro eseguendo invece un corpo a corpo ripristinava il 20 per cento degli scudi invece ora è che il danno da mischia e gli effetti elettrici sono al 40 per cento entrambi e eseguire un colpo in mischia ripristinare il 40 per cento degli scudi quindi niente male per quanto invece riguarda proprio il gear del ranger allora largos mace che è praticamente la nostra mazza che è molto semplicemente il corpo a corpo danni sono stati aumentati del 25 per cento il beneficio del vendicatore è aumentato il danno da mischia del 210 per cento per 20 secondi prima era del 110 per cento per 20 secondi il componente c'è il componente il gear a sangue freddo invece modifica su attivo aumenta il danno da mischia del 235 per cento per 10 secondi prima era il 135 per cento per dieci secondi quando si congelavano i nemici ora invece basta spararla ok l'embers lens aumento dei danni da esplosione quindi l'esplosione è aumentata in più è stato rimosso il tempo di recupero ok ok per quanto riguarda invece grande apertura attualmente era la granata la granata seeker potenziata si divide in cerca di nemici la fure di amber sconfiggere i nemici con dall'alto garantisce il 75 per cento di danni dell'arma aumentati per del 20 per cento invece attualmente questa granata quindi la granata ricerca si divide e colpire i nemici indiscriminatamente quindi sia dall'alto che a terra aumenta del 60 per cento i danni dell'arma quindi diciamo che si tira la granata e poi si spara molto comodo perché non bisogna per forza rimanere in volo per far aumentare i danni della propria arma che si sta utilizzando la vendetta ricorrente anche qua il seeking missile quindi attualmente era che l'effetto combinato dava impatto e dopo aver sconfitto un nemico praticamente si recuperava una carica e poteva verificarsi una volta ogni 7,5 secondi attualmente il seeking missile invece ha sempre l'effetto combinato però anche diventa anche detonatore quindi garantisce una combo e garantisce anche se si uccide un nemico una carica del 100 per cento questa è un'ottima cosa la gambit invece aumento dei danni provocati dall'esplosione di ghiaccio in generale e per questo può finire qua il guardiano in pratica è stato reworkato tutto io non ho parole mi spiace essere stato qua dieci minuti a parlarvi del guardiano ma è stato veramente cambiato a destra e a manca e ho dovuto fare questo bellissimo video ultimo ma non ultimo il tempesta andiamolo subito a vedere per quanto riguarda il tempesta i componenti modificati sono l'amuletto d'inverno che è stato aumentato del 30 per cento il danno per 20 secondi prima era del 20 per cento mark of clarity che è stata aumentata l'armatura del 40 per cento e ripristina senza alcun tempo di recupero viene ripristinata senza alcun tempo di recupero invece prima era il 20 per cento con il 10 secondi di ricarica mark of ruin prima era che i danni da fuoco e l'effetto faceva cioè aumentava i danni da fuoco e l'effetto fuoco mentre si ricaricavano i vari sigilli attualmente invece si aumentano i danni da fuoco e l'effetto fuoco ma dopo aver applicato l'effetto aumenta i danni da fuoco del 50 per cento per 10 secondi mark of rat in pratica attualmente cioè prima era che i danni riduceva la velocità di ricarica del vario sigilli di messa a fuoco mentre attualmente sono stati aumentati i danni e in pratica fa anche da detonatore per le combo e provoca grandi esplosioni elettriche complicatissimo questo da tradurre token of daring in pratica prima aumentava i danni elementali e diminuiva i danni fisici mentre la rottura dello scudo dava la ripristino del sigillo dal 20 per cento per 20 secondi quindi aumentava il recupero del sigillo attualmente invece è stato aumentato il danno elementale e diminuito il danno fisico ma in caso di rottura dello scudo ricarica istantaneamente il tutto quindi diventa praticamente istantaneo per caso qualcuno ci spara e vi distrugge lo scudo segno del maestro sono stati aumentati del 60 per cento i danni per 10 secondi token of the pupil sempre stessa cosa 60 per cento anche quello per 10 secondi prima erano entrambi 60 per cento per cinque e sono stati anche aumentati i danni elettrici e l'effetto elettrico che ha sugli avversari segno di vanguard ha aumentato il danno del 40 per cento per 10 secondi prima era del 10 per cento per 20 secondi per quanto riguarda invece il gear dello storm rinnovor di isle storm rimosso il requisito di essere sopra il bersaglio quindi non dovete per forza essere in volo ed è stato aumentato il danno base del 25 per cento sigillo della mente aperta è stato rimosso il requisito di recupero che bisognava sempre essere sopra l'obiettivo ora ha permanentemente anche due cariche quindi avete due cariche non più una la fiamma di venomus è stata aumentata del danno base del 50 per cento mica male e praticamente ogni terzo colpo consecutivo cambia il danno che fa figo ok il winter's wrath è stato aumentato il danno è stato aumentato scusa il numero di base di cariche e anche il tasso di ricarica è stato aumentato quindi dovrebbe essere dovreste poterne sparare di più ma con meno frequenza i 10.000 soli invece prima praticamente aveva un effetto combinato a catena che dopo aver colpito un nemico aumentava del 5 per cento i danni inflitti per 5 secondi fino a un massimo di 20 cariche attualmente invece l'effetto combinato aumenta dopo aver colpito un nemico aumenta del 10 per cento i danni inflitti per 10 secondi ma per un moltiplicatore di 10 quindi per 10 volte ghiaccio nero è stato modificato per colpire un nemico e una volta che si è colpito congela anche le creature vicine e basta e queste sono le modifiche che sono state fatte allo storm non credo ce ne siano altre spero di esservi stato utile con lo storm andiamo a vedere le ultime cose oh mio dio ce ne sono ancora una quantità industriale sono stati veramente cambiati anche iscrizioni e altri componenti di base del ranger che rende tutto molto molto più divertente e non solo quelli adesso andiamo subito a vederli scusatemi se non sto leggendo il plot ma sto praticamente traducendo man mano che faccio il video perché se no verrebbe fuori un video lungo 10 miliardi di chilometri se lo scrivo allora le iscrizioni sono state praticamente cambiate in teoria dovrebbe essere stata migliorata in maniera tale in cui vengono lette e quindi utilizzate l'esempio stupido è il supply drop che prima le iscrizioni diceva che il supply più l'x percentuale di drop rate ora sarà più l'x percentuale di supply d'up rate in pratica sono state cambiate alcune iscrizioni come erano state tradotte perché non si capiva bene come potevano essere utilizzate per quanto riguarda invece ci sono state cambiate le componenti di base per quanto riguarda il ranger in pratica è stato baffato in generale il ranger a caso totalmente a caso cioè veramente aumenti di base delle esplosioni dei regolatori termici delle granate varie eventuali non sto qua a tradurveli tutti perché sono veramente tantissimi e sono state anche cambiate tra l'altro delle iscrizioni per quanto riguardano cannone automatici e componenti universali quindi sono veramente 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 tanti e vi conviene veramente voi andarle a leggere perché se sto qua a tradurveli ci mettiamo altri 10 minuti soltanto per questa cosa sono stati aggiunti dei nuovi componenti universali mitici quindi in teoria dovremmo poterli droppare in grandmaster 1, 2, 3 senza alcun problema per quanto invece riguarda tutte le nostre componentistiche varie ed eventuali sono stati aggiornati come al solito le varie scritte e alcuni componenti sono stati cambiati soprattutto per quanto riguarda l'intercettore e il colosso è stato cambiato il modo di combattere i melee dell'intercettore questo era stato detto anche nella live stream che ora può eseguire più attacchi in mischia con un singolo input quindi io clicco una volta e lui continua a colpire un determinato nemico senza che io dobbia cliccare più e più volte in più l'intercettore ora può fare esplodere combo anche se non hanno un'aura attiva quindi se io non ho un'aura attiva su di me posso comunque fare esplodere delle combo il che rende tutto molto più divertente attualmente è stata cambiata anche la funzionalità dell'aura dell'intercettore che praticamente noi una volta che attivavamo l'aura o no io parlo per noi perché gioco l'intercettore ma qualsiasi intercettore se voi non l'avete mai giocato quando attiva l'aura ha un tot tempo di secondi per scadere in pratica invece noi ogni volta che andremo ad uccidere un nemico con uno status addosso la nostra aura ritornerà ad essere con il timing massimo quindi si ripristina il timing dell'aura e possiamo mantenerla attiva finché noi stiamo colpendo qualcuno sotto status non male è stato anche aumentato del 20% il livello massimo di resistenza dei propulsori per tutti i javelin quindi per tutti gli strali che dire è una patch enorme direi che con questo ho finito tutto ragazzi se ho mancato qualcosa mi spiace ma ho dovuto già dividerla in due e questo video sta durando veramente un'eternità noi ci vediamo con il prossimo video magari guardando anche la differenza con DLSS attive e senza per farvi vedere anche che cosa cambia e che cosa hanno attivato con Nvidia noi ci vediamo la prossima volta con questo è tutto GG a tutti quanti ciao a tutti